ciao ragazzi sono simon88 e lui è in questo video apriremo ancora delle uovo di pasqua 2023 allora io aprirò quello di sonic che guardate che bello sonic e tua prima invece in tanto che bello della balocco ragazzi molto molto bello è l'estate fino a fine video perché ne apriremo un altro indovinate qual è ok ragazzi allora prima di prima di tutto ricordiamo i nostri amici di iscriversi al canale e lasciare tanti pollici in su così non perderanno i nostri video nelle notifiche quindi adesso non perdiamo tempo ma andiamo a scoprire cosa contengono le uove di pasqua della sonic e wow dai allora chi comincia? io i vini di te allora fai vedere fai vedere allora fai vedere fai vedere allora dai allora ti do la mano allora questo ragazzi è il tagliandino tagliandino aspetta però aspetta quasi ti copri la parte ti copri eh dai ok adesso sì allora dai poi aspettiamo dai apri fai vedere i nostri amici da sapere cosa troviamo guardate sotto i bracci si sta fattato cosi e questo è l'uovo guardiamo il cioccolato cioccolato ottimo questo cos'è? c'è scritto dietro l'apriamo Filippo? l'apriamo? si e non lo so cos'è cosa può essere? chi lo puoi? cos'è? per vedere cos'è? sembra un pazzo letto vediamo cos'è è un sacchetto ragazzi cos'è? cos'è Filippo questo? non c'è scritto? aspetta io se riusciamo a vederlo capire cos'è? no ragazzi non c'è scritto qua cos'è questo allora ditemi voi nei commenti cos'è questa cosa cos'è Filippo? non l'abbiamo capito scaldacollo scaldacollo? no non lo sappiamo Filippo cos'è allora ragazzi ditemi voi cosa può essere perché non lo sappiamo perché qua è un po' complicato da scoprire allora adesso questa è la sorpresa tua adesso così cosa troverò? aspetta spostiamo un attimo l'uovo di cioccolato e apriamoci il mio dai apriolo te il mio apriolo te Filippo allora questo è Sonic della Dolphin spiegalo aspetta oh allora fai vedere l'uovo l'uovo e poi c'è passato oh c'è bucato è già bucato ragazzi dai rompilo qui su qui no no lì sulla carta tutto in giro va oh cioccolato cioccolato assagiamo questo è più fondente ragazzi mi sembra più fondente scopriamo la sorpresa aspetta spostiamo il cioccolato perché sennò qua ingrassiamo e ne mangiamo tanto vero e non fa bene è bene mangia tanto cioccolato no puoi ci amare la pancia si però se c'è questo è uguale a questo questo è il regalo allora l'apriamo e se c'è la uguale a questo e non lo so se è uguale scopriamo perché non si sa cos'è aspetta vediamo ad aprirlo questa è la mia sorpresa però eh beh ho capito cos'è forse è un palloncino di quelli che si gonfia vabbè è un palloncino di quelli che si gonfia ragazzi guardate qua adesso vocevo gonfiarlo si questo come vedete si gonfia diventa tipo un palloncino aspettate stop un attimo e lo gonfio allora qua l'abbiamo gonfiato e praticamente non lo so dovrebbe essere un frisbee qualcosa del genere si qua c'è la cosa per gonfiare ragazzi si qua c'è un pulo guidante e un volante qua c'è Sonic che è molto bello si bello eh Sonic si dai allora sei soddisfatto di questa sorpresa si allora qual è qual è che ti piace di più questa questa ti piace di più questa non l'abbiamo capito bene cosa serva va bene allora adesso c'è l'uovo misterioso che loro non lo sanno qual è si non lo so allora dai guardate quello delle micro machine ragazzi delle micro machine lì c'è qui ok aspetta facciamo vedere micro machine allora Filippo io ti voglio dire una cosa queste micro machine c'erano quando io ero piccolo si e le fanno ancora oggi capito quindi quanto tempo con queste micro machine si adesso ho film allora guardate il guavo sotto il nome cioccolato vai vedere vai vedere cioccolato cioccolato aspetta il cioccolato lo assaggiamo si cioccolato cioccolato penso al latte buonissimo ragazzi il cioccolato è buonissimo è vero Filippo l'ho tracciato allora abbiamo trovato praticamente questo fogliettino che adesso andiamo a leggere aspetta 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 facciamo vedere cosa abbiamo trovato tutto allora questo praticamente è il concorso ho scritto il grande concorso in paglio se volete prendete il codice che tanto a noi non ci interessa questo è il vetro ragazzi e qua il braccialetto abbiamo trovato questo è un braccialetto è un braccialetto guarda in camera allora aspetta 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 che c'è questo oh allora perché se la batti laggiù si praticamente questo si hai ragione tu è un braccialetto ragazzi è un braccialetto da inserire si vedo tu dietro c'è scritto asbro eh si perché questo l'ha messo uno l'ha messo qui e l'altro l'ha messo di questa eh l'altro l'ha messo di qua si adesso lo farò via va beh ragazzi lo monteremo off camera questo è quello che abbiamo trovato allora diciamo che in queste uova non è che si trova regali spettacolosi perché comunque sono sempre regali si perché questo lo sappiamo che c'è questo un braccialetto ma potevano mettere almeno una macchinina cioè ragazzi questo secondo voi è un regalo per bambini ditemi voi cioè Filippo potevano mettere una macchinina idea e poi potevano mettere un super personaggio invece di questo qua potevano mettere un super eroe un personaggio si e poi abbiamo trovato questo Sonic si potevano mettere vabbè ragazzi dai queste sono le uova che stiamo scoprendo piano piano cosa contengono quindi facciamo vedere le ultime volte i regali allora questo delle micro machine questo di Sonic e questo del Tintas Go che non sappiamo cos'è allora ragazzi noi vi salutiamo ci vediamo in un prossimo video vi ricordo sempre tira via dai ricorda se amici di iscriversi al canale di lasciare sempre i pollici in su fai vedere i pollici ok e quindi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi alla prossima